Cristian Riganelli per il secondo anno direttore artistico di Pif Castelfidardo, 42esima edizione che inizia in un certo senso in anticipo quest'anno perché è un'edizione particolarmente espansa. Sì, infatti per questa 42esima edizione in accordo con l'amministrazione comunale abbiamo optato per allargare appunto per fare un'edizione espansa del Pif. Infatti partiremo con la musica, suon di fisarmonica proprio durante i primi due weekend di agosto con un'edizione Pif sotterranea in cui inviteremo dei musicisti a suonare nelle grotte di Frasassi, nelle grotte di Camerano, grotte di Osimo e cisterne romane di Fermo e quindi faremo assaggiare il suono della fisarmonica e dell'organetto ai tantissimi turisti che visiteranno queste zone. Altra caratteristica del Pif Espanso sono il Pif Round, quattro concerti che collegherà la Coppa Mondiale di Osimo con il premio internazionale Castelfidardo in quelle città che hanno rappresentato la storia della fisarmonica insieme a Castelfidardo, ovvero Reicanati, Numana, Camerano e Loreto. E quindi con questa edizione vuole un po' toccare tanti comuni limitrofi a Castelfidardo proprio per sensibilizzare tutti quanti allo strumento, al suono della fisarmonica e alla storia di questo territorio. Tra le novità 2017 del 42esimo Pif anche una nuova visione della collaborazione con i conservatori italiani. Per questa 42esima edizione infatti abbiamo ideato una sezione riservata alle classi di fisarmonica e di musica da camera ed insieme dei conservatori italiani che riguarda proprio la promozione e lo sviluppo della musica da camera. Non è una competizione ma è una sezione appunto che prevede la realizzazione di un concerto. Ogni conservatorio presenterà 15 minuti di musica da camera in cui la fisarmonica può essere affiancata da altre fisarmoniche oppure interagire con altri strumenti. Il programma di esecuzione sarà un programma a libera scelta quindi potremmo avere trascrizioni, musica originale o prime esecuzioni. Ad oggi abbiamo già 5 iscrizioni, molte stanno arrivando e siamo molto contenti perché già ci hanno dato l'ok per la partecipazione. Il conservatorio di Cimarosa dai Vallino, il conservatorio di Tartini di Trieste, il conservatorio di Santa Cecilia di Roma, il Cherubini di Firenze e il Respiri di Latina. Oltre all'Accordion Stage Academy un altro momento di interpretazione sarà certamente la finale per la categoria premio che da tre anni prevede che venga fatta con l'accompagnamento dell'orchestra. Qual è il pezzo di quest'anno? Come pensa di approcciare questa categoria che è un po' il fiore all'occhiello del premio di Castelfidardo? Sì, per la categoria premio che è la categoria concertisti di questa 42esima edizione prevediamo tre prove come è successo lo scorso anno e la terza prova come avviene per i più importanti concorsi e competizioni pianistici e violinistici. Abbiamo la prova live con orchestra e quest'anno abbiamo rinnovato la convenzione con il Conservatorio Pergolesi di Fermo e quindi avremo l'orchestra d'archi del Conservatorio Pergolesi che eseguirà in prima esecuzione, domenica 17 pomeriggio, un brano commissionato proprio da Piff 2017 al compositore Angelo Biancamano, un brano per fisarmonica solista e orchestra d'archi. Come ormai da qualche anno quindi Piff si ripropone come talent scout sostanzialmente sia per i conservatori che per i singoli concorrenti. C'è anche l'introduzione di nuove categorie e il ritorno di altre che servono a significare appunto questa contaminazione della fisarmonica in tutti i generi musicali. Sì, abbiamo inserito delle nuove categorie, infatti abbiamo inserito la categoria solisti di World Music, una categoria che ha avuto già tantissime iscrizioni e questa è la categoria del giovedì, quindi giovedì avremo World Music Solisti e World Music Gruppi. Il venerdì abbiamo inserito, reintrodotto la categoria Jazz, categoria Jay, che da qualche anno era stata un po' interrotta e l'abbiamo promossa molto anche perché abbiamo inserito tantissimi premi per questa categoria. Infatti oltre al tradizionale primo, secondo e terzo premio, abbiamo introdotto la realizzazione di una stampa di 1000 cd per il primo classificato, un concerto premio alla migliore formazione italiana al prossimo Jazz According Festival di Castelfilardo che si terrà a dicembre e una borsa di studio al miglior solista che si distinguerà in questa categoria. Questa è una categoria che prevede la partecipazione dal solista all'ottetto, quindi è una categoria unica che riguarda appunto la musica Jazz, c'è solo un brano d'obbligo che è la scelta di un brano tratto da Real Book e per il resto il programma è assolutamente libero. Vorrei segnalare anche alla giuria che sarà una giuria non formata da soli fisarmonicisti ma alla giuria prenderanno parte dei direttori artistici, critici e chiaramente addetti al settore Jazz. Anche per questa edizione un grosso incentivo alla partecipazione a dei concerti piuttosto che solo ed esclusivamente alla premiazione a mezzo borse di studio. Quali sono le possibilità che avranno i concorrenti del 42esimo PIF? Anche per questa 42esima edizione abbiamo istituito tantissimi premi, oltre 20.000 euro i premi in denaro e circa 20 sono i concerti che sono spalmati un po' in tutte le varie categorie. Pensiamo agli scambi internazionali con il Belgio, con la Russia, con la Serbia, con il Portogallo e poi alle collaborazioni strette con rassegni e festival italiani, anche non strettamente legati e specifici per la fisarmonica. Appunto a proposito di quello che non riguarda l'ambiente fisarmonicistico, anche per le serate di gala che approcciano la fisarmonica sotto ogni punto di vista, quest'anno lei ha spinto su delle proposte decisamente particolari. Sì, infatti la serata d'apertura si terrà mercoledì 13 settembre e vedrà protagonista Dario Vergassola insieme ad un ensemble di quattro musicisti dove naturalmente sarà inserita anche la fisarmonica ed avrà un ruolo di primo piano. Dario Vergassola presenterà un progetto che si chiama La ballata delle acciughe con una divagazione naturalmente a tema fisarmonica. Questa sarà la serata di apertura. Il giovedì 14 settembre avremo Alessandro Gaudio, Etno Project, organettista talentuosissimo che viene dal Cilento. Per il venerdì, la serata della musica jazz, avremo Marc Bertomiu e Giovanni Mirabassi, quindi fisarmonica e pianoforte, un duo che viene da Parigi. Per la serata di gala di sabato 16 settembre avremo un omaggio al tango. Il titolo dello spettacolo sono I colori del tango. Infatti il Mastango, che sono questo organico composto da sette musicisti più cantante e due coppie di ballerini, presenteranno un programma che spazierà dal tango tradizionale alle musiche di Astor Piazzolla. A proposito di Astor Piazzolla, quest'anno ricorrono i 25 anni dalla morte e Castelfidardo possiede delle cose preziosissime del maestro Piazzolla e le tiene al Museo della Fisarmonica Piazzolla. Il Museo della Fisarmonica ha intitolato un'area proprio ad Astor Piazzolla in vista del fatto che siamo possessori di un bandoneon appartenuto alla famiglia Piazzolla che ci è stato donato proprio dalla moglie del compositore argentino ed una partitura autografa di Adios Nonino. Piazzolla è un compositore molto caro ai bandoneonisti ma soprattutto ai fisarmonicisti. Ecco, che cos'è che è particolarmente caro nel repertorio classico secondo lei a un fisarmonicista e nel repertorio jazz a un fisarmonicista che intenda contaminare? Lei ha coinvolto nel tempo anche Simone Zanchini piuttosto che in questo caso ha scelto Bartomeu eccetera. Che cos'è che spinge un fisarmonicista verso la classica, verso il jazz o verso la war music? Io credo che ogni fisarmonicista da studente tocchi e assaggi un po' vari generi musicali. Poi nel percorso arriva ad una certa età e decide un po' sceglie in base a quelle che sono le sue inclinazioni naturali, in base all'insegnante che incontra, le motivazioni che ha attorno a sé. Quindi diciamo che da studente tutti i ragazzi toccano e sperimentano vari generi musicali. E poi arriva il momento della specializzazione, quindi alcuni si specializzano nella musica cosiddetta classica o contemporanea, altri preferiscono il jazz e la war music. E' chiaro che oggi l'iper specializzazione è un po'... E' chiaro che oggi? Iper specializzarsi e dedicarsi esclusivamente ad un settore, ad un genere musicale è un po' difficile, visto un po' la storia del nostro strumento che riguarda e tocca un po' trasversalmente tutti i generi e viene inserito in tantissimi contesti musicali. Per il prossimo PIF, il 42esimo, di cui lei è direttore artistico, maestro Riganelli, che ricordo vorrebbe le rimanesse alla fine, il 17 sera, quando lei avrà chiuso questa edizione? Il 17 sera, come ho visto l'anno scorso, sarà una giornata in cui sarò molto stanco, questo sicuramente. Cosa vorrei? Beh, vorrei innanzitutto una grande partecipazione di fisarmonicisti, una grande affluenza di pubblico e quello che vorrei è che tutti addetti ai lavori e non gustassero questa settimana, o meglio queste settimane, perché poi questo PIF diffuso, allargato, inizierà molto prima, come abbiamo precedentemente detto. Vorrei che tutti si portassero a casa l'idea che la fisarmonica è uno strumento veramente giovane, fresco, che può interessare e accattivare tantissime persone. Grazie a tutti.